Dicevamo la situazione in Italia tutto sommato rimane fuori controllo d'esta molta preoccupazione quello che sta accadendo nel mondo, la Spagna, la Francia e gli Stati Uniti d'America si sono registrati oltre 45.000 contagi con 942 vittime nella giornata di ieri allora noi andiamo dal nostro Claudio Pagliara perché la notizia che arriva da oltreoceano è che le autorità sanitarie stanno pensando addirittura di sospendere i festeggiamenti per Halloween Claudio buongiorno, grazie per essere con noi e così confermi Beh sì, buongiorno, questo anno, questo 2020 vede tutti i principali appuntamenti purtroppo sospesi non ci sarà la maratona di New York, non ci sarà l'Halloween, almeno la grande parata sulla quinta strada sarà ovviamente per i bambini possibile andare casa per casa a chiedere scherzetto dolcetto ma gli assembramenti sono vietati così come molte altre manifestazioni che avverranno c'è naturalmente che incombe il Thanksgiving in questo momento tra l'altro la New York che come sappiamo ha una forte percentuale di popolazione ebraica bene, ci sono i festeggiamenti delle feste ebraiche e proprio questi festeggiamenti con tutto ciò che comportano stanno creando allarme perché anche qui a New York dove il virus è stato schiacciato si assiste a una certa ripresa proprio nella comunità ultra ortodossa di New York purtroppo sappiamo il virus è tra noi e ogni volta che ci avviciniamo troppo e siamo troppo insieme questo provoca focolai. Un dato tanto per rendervi conto in questo momento mentre stati che avevano testato allarme a luglio come la Florida, la California, l'Arizona sono riusciti ad abbassare i dati giornalieri i nuovi contagi stanno crescendo nel Midwest degli Stati Uniti perché? Perché lì si è tenuto alla fine di agosto un grande rally motociclistico che si tiene tutti gli anni, si chiama Storgis, è una rally che pensate coinvolge fino a mezzo milione di persone il risultato è che adesso i casi proprio in quella regione stanno crescendo molto per l'audio